Guardate i bambini, i fratelli del cerchio attraverso Andreina, cura di Vubbi, domanda Perché dite che non ci dobbiamo far toccare dalle convinzioni altrui? I fratelli del cerchio Perché quando riuscirete a non farvi toccare dalle altrui convinzioni potrete entrare in tutti i mondi che vorrete e creare le verità che sentite in voi. Sì, guardate i bambini, essi sono liberi e spensierati perché vivono in un mondo dove tutto è possibile. Infatti, è proprio in quel periodo che si vivono le esperienze più belle. Ognuno di voi l'avrà sperimentato. Non vi chiedevate allora se era possibile o meno. Semplicemente lo vivevate ed era reale, come è reale quello che sperimentate adesso. Ricordate solo una cosa, che Dio è ovunque. Non c'è distinzione per Lui tra quello che credete esistere oppure no, perché Lui c'è. C'è nei vostri sogni, c'è nelle vostre favole, c'è nella vostra realtà e in quella che ancora non vivete. Perciò diciamo di affidarvi all'eterno presente. Egli c'è ed è tutta la vostra realtà alla quale crediate o no. Egli c'è la vostra realtà all'eterno presente.